Benvenuti nel mondo degli orologi di Christopher Ward. Christopher Ward è un marchio britannico di orologi di lusso fondato nel 2004 da Mike Franz, Chris Ward e Peter Ellis. L'azienda si è guadagnata una buona reputazione nel settore, grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità dei suoi orologi e al design impulito ed elegante. Uno dei punti di forza di Christopher Ward è la sua gamma di orologi con movimento automatico di fabbricazione svizzera, a prezzi accessibili rispetto ad altri marchi di lusso simili. Inoltre, l'azienda offre anche orologi con movimenti giapponesi al quarzo a prezzi ancora più convenienti. La vasta gamma di stili di orologi offerti da Christopher Ward comprende orologi da pilota, da SUV, da dress e sportivi, tutti con un'estetica elegante e sofisticata. In particolare, gli orologi da subacquei della linea C60 Trident di Christopher Ward sono tra i più apprezzati dagli appassionati del settore. In generale, Christopher Ward è un marchio affidabile e rispettato nel mondo degli orologi di lusso, con una combinazione di alta qualità, attenzione ai dettagli e prezzi accessibili che lo rendono una scelta popolare tra gli appassionati di orologi. La varietà di stili di orologi offerti da Christopher Ward è un altro punto di forza del marchio. La linea C60 Trident, ad esempio, offre una vasta gamma di orologi subacquei, ciascuno con un design unico e un'attenzione ai dettagli impeccabile. Gli orologi da pilota della linea C8 Pilot MK2, invece, sono ispirati ai vecchi orologi da pilota dell'era della Seconda Guerra Mondiale, con un design vintage ma moderno allo stesso tempo. In conclusione, Christopher Ward offre la possibilità di personalizzare l'orologio con incisioni e scritte personalizzate.